Sono con Catherine Graham, console generale britannico a Milano e abbiamo parlato tutta la giornata, tutta la mattinata del business, del trade tra Italia e UK e UK Italia. Grazie per essere intervenuta con la Camera di commercio italiana a Londra. Qual è la tua percezione, Catherine? Grazie, è sempre un piacere essere qui in questo angolo d'Italia a Londra. Sono molto contenta di dire che il rapporto italiano-britannico per quanto riguarda gli scambi commerciali e in un'ottima posizione. Per quanto riguarda gli investimenti, l'Italia è diventata una fonte di investimenti sempre più importante per noi nel Regno Unito, in particolare nei settori chiavi per il futuro, come la tradizione verde, la sostenibilità, l'energia rinnovabile, la tecnologia, la digitalizzazione. Nell'altra direzione abbiamo visto una forte crescita nelle esportazioni italiane verso il Regno Unito. Abbiamo stamattina sentito da ICE che abbiamo raggiunto un record in questo. Quindi un contesto positivo. Non possiamo essere però tranquilli nel senso di… riconosco il contesto difficile per le aziende, non solo con la crisi nel costo della vita quotidiana, la guerra in Ucraina che ha un grande impatto sulla catena dei fornitori e continuiamo a vedere una transizione grande nell'economia verso un futuro più sostenibile, più digitale. Quindi c'è molto da gestire per ogni azienda qui, ma io ho visto oggi l'impegno della comunità italiana, gli imprenditori con questa creatività, passione e sono assolutamente convinta che queste imprese ce la possiamo fare, ce la possiamo gestire questa transizione creando forte opportunità per tutte e due delle nostre economie in un tempo più chiaro che mai per il nostro rapporto bilaterale. Abbiamo parlato poi del Giubileo della Regina e di tutte le iniziative che vengono fatte anche in Italia. perché gli italiani da sempre sono, diciamo, dei fan della famiglia reale e in particolare io personalmente trovo che sia la nostra Regina una degli ultimi, come posso dire, un'enciclopedia di storia degli ultimi cento anni. Certo, sì, come tutti i britannici la Regina ha una grande ammirazione per l'Italia e il rispetto c'è nell'altra direzione. Quindi non succede ogni anno, 70 anni sul trono questo davvero un anno da celebrare. ha detto giustamente che lei rappresenta il legame con la nostra storia condivisa, i nostri valori condivisi. Più che mai dobbiamo ricordare adesso l'importanza di questa unità a livello europeo. lei è stata la Regina durante molti periodi difficili nella nostra storia insieme e ancora adesso continua ad essere un'ispirazione per tutti e due dei nostri popoli per il futuro. Quindi auguri alla Regina. Grazie a Catherine Graham, il Consul General di Milano per il governo britannico. Grazie per essere qui e per essere con noi in la Chambra di Commercia. Grazie, è un grande piacere come sempre.